Signor Presidente, signor Ministro, la ringraziamo per la risposta che ha reso ad un'interrogazione che non avremmo voluto presentare, perché tanto speravamo che vi fosse lucidità di giudizio nell'ambito di chi esercita delicate funzioni ad evitare di costringerci a farlo. Lo abbiamo sperato, ma purtroppo qualcuno ha voluto andare oltre quelli che sono i propri poteri, ma anche il limite della critica. Vede, signor Ministro, lei proprio nei giorni scorsi, a dimostrazione di come questo Governo voglia far funzionare la giustizia e tenga allo Stato, ha firmato il decreto per l'assunzione di 599 magistrati. E' la risposta più bella che si poteva dare a chi sulle e-mail si esercita a voler stilare graduatorie di valutazione su questo o quel Presidente del Consiglio, sostituendosi al Corpo elettorale, l'unico legittimato a farlo. Un conto è vincere un concorso, un conto è essere eletti dal popolo. Sono due questioni veramente diverse che non possono essere frammischiate. Se qualcuno vuole fare politica e nessuno nega che un magistrato possa fare politica, non ha che da scendere in politica però lasciando l'incarico che attualmente ricopre. Non utilizzando quell'incarico per esercitare un ruolo politico all'interno della magistratura. E aggiungo che il suo intervento, oltremodo puntuale, così come è stato puntuale il suo intervento nello spiegare a chi evidentemente non l'ha capito il testo della sentenza della Corte di Giustizia europea, il suo intervento, dicevo, è particolarmente gradito perché noi non cerchiamo vendette nei confronti di nessuno. Noi chiediamo soltanto che il giudice sia e rimanga terzo come deve essere secondo Costituzione. La ringrazio.